Al mercato di Ravenna attiva la raccolta differenziata porta a porta. Mentre prima gli ambulanti utilizzavano i cassonetti stradali per riporre carta, plastica, cassette di legno e scarti alimentari, ora, al termine di ogni giornata di mercato, gli addetti di ERA passano a ritirare i rifiuti a domicilio. Un progetto cui collaborano anche la cooperativa Personi in Movimento, Legambiente, Chireco, Comune di Ravenna e Gruppo ERA. Un ruolo importante svolto anche dai volontari della cooperativa Personi in Movimento che agevolano gli ambulanti nello svolgimento dell'attività legata all'iniziativa.